Voglio ringraziare innanzitutto mia moglie che mi incentiva in questo nuovo lavoro della televisione e stiamo facendo un ottimo lavoro e lei è bravissima, io di solito sono dietro la telecamera e lei è qua al mio posto, cioè veramente io adesso sono al suo posto, ma lei alla prima dice le cose giuste nel modo giusto, cioè è fantastica, io invece mi occupo dell'editing e poi di montare tutto il programma. Bene oggi siamo, anzi questa sera ormai siamo a New York perché c'è stato un concerto di non so chi, un pianista che non mi ricordo anzi sarà meglio che ve lo dico